Buongiorno, oggi vi presento il prodotto Elisir Delis di Stendhal. Elisir Delis è un nettare concentrato illuminante che grazie al complesso Elisir Delis presente in alta concentrazione svolge un'azione contro le macchie sin dalla loro nascita. La formula è arricchita con un complesso di acidi di fiori che determina una stimolazione della rigenerazione cellulare, del rinnovamento cellulare. La formula poi si completa con i petali d'oro 24 carati che assicurano radiosità alla pelle. Con l'utilizzo costante di Elisir Delis la pelle appare più luminosa, l'incarnato più uniforme e splendente di bellezza. Il prodotto si presenta in un dropper contagocce da 30 ml, la sua fragranza è una fragranza agrumata, fiorita e cipriata piacevolissima e il prodotto potrà essere applicato dopo la detersione prima di un qualsiasi trattamento stand-up della nostra cliente. Piacevolissima la texture.